Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video vi farò vedere come mettere la BMX nella base operativa Allora, innanzitutto i requisiti sono un amico che deve avere la vengare, voi non è importante se l'avete o meno Almeno mi sembra che non sia importante perché io l'ho fatto anche senza vendere, però fatelo così, come lo vedete Un amico che deve avere la vengare e deve stare in quella posizione che vi ho appena indicato all'interno della sua base operativa e del suo vengare Dovete avere tutti e due la stessa base operativa, sia voi che il vostro amico A questo punto che cosa dovete fare? Vi dovete registrare come CEO Una volta diventati CEO, invitate il vostro amico e fate assumi associati E vi posizionate su ritirati, tramite parti il vostro amico andrà ad accettare il messaggio per diventare CEO E correrà verso la porta, quando avrà la schermata nera ci dirà Sì ho la schermata nera e noi ci ritireremo Vi lascerò un video di un altro money glitch Dove ci sono due schermi in maniera tale che possiate vedere bene Se tutto sarà andato bene, il vostro amico si troverà buggato all'interno della vostra base operativa Che cosa dovete fare voi? Dovete uscire dalla sessione, andare in modalità creatore E accettare l'invito del vostro amico che vi farà un partecipo a sessione Io qui già ce l'avevo, quindi ho semplicemente ripreso un vecchio invito e sono rientrato in sessione A questo punto, una volta che torneremo in sessione Che cosa andremo a fare ragazzi? Andremo a posizionare l'auto nel posto che vi ho fatto vedere oggi in live Però andiamo per grati e andiamo a vedere il glitch come funziona Anche perché questo qui è un money glitch anche Solo che può essere usato per mettere la BMX nella base operativa Per poter fare il money glitch da solo che vi ho portato oggi come video Allora, questi procedimenti ve li ho portati anche in live Però qualcuno mi ha chiesto il video Speriamo che qualcuno riesca a capire meglio nel video E quindi passiamo al video Passiamo al glitch Quindi a questo punto ragazzi siamo nella nostra base operativa Io qui vado a usare una LG Retro Custom Perché mi faceva fatica a comprare una RH8 Avrei impegnato troppo tempo Però voi usate una LG RH8 per fare questo passaggio Salite in auto e non appena il vostro amico sta toccando la portiera Voi dovrete scendere immediatamente Come vedete in questo caso non è riuscito Quindi andiamo a rifarlo A me non mi lascia entrare Quindi automaticamente significa che il mio amico Può direttamente accedere al lato del conducente A questo punto il mio amico che cosa deve fare O il vostro amico Deve andare a posizionare l'auto in quella posizione In quel posto ragazzi In maniera tale che noi potremo teletrasportarci E continuare con il glitch Ringrazio Odeon per avermi dato una mano a girare questo video Anche perché ci ha avuto molta pazienza a starmi dietro Perché abbiamo avuto svariati problemi Ma non per quanto riguarda il glitch Ma per quanto riguarda le pennette USB ragazzi E quindi a questo punto ci dobbiamo curare del teletrasporto Quindi quando avremo il teletrasporto Come vedete abbiamo il teletrasporto Siamo pronti L'unica cosa che dobbiamo fare è andare a prendere la BMX Che giustamente avremo nella rastrelliera in un altro posto Quindi io qui sto usando il teletrasporto per fare ciò ragazzi Quindi usciamo dalla base operativa Mettiamo le attività visibili Io in questo caso non ho nessuna attività visibile Quindi andrò a mettere le attività visibili Dal menu interazione Andrò su nascondi opzioni E metterò tutte le attività visibili Tramite questa opzione Anche se è buggato Perché vedete io ce l'avevo già su mostra Però l'ho fatto ugualmente E come vedete adesso mi fa vedere tutte le attività Andrò a selezionare un'attività Che sta in prossimità del mio appartamento Dove ho la BMX In questo caso è Clip Tower Mi chiederà di essere host Diventerò host Andrò a fare un partecipa a sessione A qualcuno che è in modalità di puntamento diversa dalla mia In questo caso sto usando Dark Glitch Ricordatevi di iscrivervi al suo canale Ragazzi anche lui fa Glitch di GTA Faccio un partecipa a sessione Aspetto che mi arriva il messaggio E quando arriva il messaggio Accetto il primo messaggio Che sarebbe quello di partecipare alla sessione E cancello il secondo messaggio Qui ovviamente mi ci ha messo un pochino di tempo Per partecipare alla sessione E quindi ho rifatto un'altra volta il partecipa a sessione Come state vedendo ci ha messo un po' Però ragazzi non ho voluto tagliare il glitch Quindi accettiamo il primo E cancelliamo il secondo E ci troveremo all'Eclipse Tower A questo punto ragazzi andiamo in garage E andiamo a prendere la nostra Diciamo BMX E andiamo a prendere la nostra Una volta usciti fuori dal garage Con la nostra BMX A questo punto Rifaremo nuovamente il teletrasporto E andremo a teletrasportarci Vicino alla nostra base operativa Quindi andiamo a cliccare sull'attività Premiamo quadrato Entriamo dentro la Diciamo l'opzione della Della missione Ci chiederà ovviamente di essere host Come prima Né più e né meno E qui andrò a selezionare In community Io qui sono andato in community Perché non mi dava più L'opzione di unirmi Alla sessione Quindi andremo in una Comunitivo da un amico Ovviamente che è in modalità Di puntamento diversa dalla nostra Faremo un partecipo a sessione E come prima Accetteremo il primo messaggio E cancelleremo il secondo Ci troveremo qui Dove volevamo teletrasportarci Rientriamo nella missione Perché in mappa Come vedete Non c'è la nostra BMX Facciamo spawnare la BMX In strada ovviamente Rientriamo nella missione Cancelliamo E ci troveremo la BMX Vicino a noi In strada ovviamente A questo punto Andremo alla base operativa Come avete appena visto nel video Entriamo nella base operativa Lasciamo la BMX fuori dalla base operativa E andremo a fare il glitch Qui dobbiamo vedere sempre Se abbiamo il teletrasporto in auto E premeremo X e triangolo insieme X per uscire dalla base Triangolo per salire in auto Come vedete Sono spawnato fuori dalla base operativa Con l'auto A questo punto Basterà rientrare Nella base operativa con l'auto E apriamo la nostra BMX Ragazzi Vi ho lasciato una scheda nel video Dove Diciamo Il video si vede In due schermi In questo video Non l'ho fatto Perché Penso che sia sottointeso Però magari andate a vedere L'altro video Che è un money glitch Che funziona ancora Su che cosa deve fare il vostro amico Quindi come vedete qui Rientriamo nella base operativa E andremo a sostituire Con la LGRH8 Che abbiamo utilizzato Per fare il glitch A questo punto Io esco dalla base operativa E rientro Solo per farvi vedere Che Diciamo La bici è entrata Nella base operativa Rimanete fino alla fine del video Per vederlo anche voi Detto questo Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti